Info M.L.I. Notizie Caffè insieme a te oggi è venerdì 29 settembre. Donna uccisa in strada a Castelfiorentino con arma da fuoco, l'ipotesi è quella del femminicidio. Secondo quanto appreso si sta cercando di rintracciare il marito che non risulta più convivente con la vittima. È stata rinvenuta nella sera di ieri in Val Bondone la carcassa dell'Orsa F36. L'accertamento del personale del Corpo Forestale Trentino è scattato in seguito all'attivazione del sensore di mortalità di cui è dotato il radiocollare dell'Orsa. Dopo M.62 F36 è il secondo orso condannato a morte dalla provincia di Trento che viene trovato quindi privo di vita. Un fatto amici di una gravità inaudita che ripugna e colpisce le coscienze di tutti. L'ipotesi è quella del bracconaggio quindi sinceramente vergognatevi. La festa del Poké, Milano e Roma le città più ingorde, consumato dagli italiani soprattutto nel weekend. È il piatto della tradizione hawaiana a base di pesce crudo. Gli ingredienti per comporre il Poké sono numerosi. Alla base si trova il riso cui si aggiungono proteine come il pesce crudo arricchito con frutta tropicale. Amici l'informazione torna domani in Forma Live. Notizie Caffè insieme a te.